Ciao a tutti i fedeli follower della Fairy Family Film, benvenuti in questa nuova recensione, recensione della Fairy Family Film, seconda volta che vedete questa simpatica faccia davanti a voi, non perché io abbia deciso di impadronirmi completamente e totalmente della Fairy Family Film, ma perché, ma perché mio fratello Giacomo ha da fare, quindi eccomi qua a fare gli straordinari e a coprire il suo posto per la recensione della quarta puntata della prima, forse unica, stagione di Agatha All Along. Ora, come potete immaginare, Giacomo ha fatto le sue recensioni, io non posso che dire che non ha capito, no beh, scherzi a parte, scherzi a parte, diciamo che le cose stanno andando un po' come aveva detto lui, nel senso che abbiamo, adesso che siamo la strada delle streghe, un susseguirsi di situazioni e di prove che sono tendenzialmente autoconclusive, ecco, era così nella scorsa puntata, è così anche questa puntata, di conseguenza, senza spoiler, posso dire, ma non penso che fanno grandi spoiler, perché grandi spoiler in realtà non ce ne sono da fare in questa puntata, comunque, se sto per dirne qualcuno, vi avvertirò. Ecco, dicevo, nella scorsa puntata aveva anche la sua efficacia, c'era un po' il mistero, non sai bene cosa succede, cosa non succede, c'era un po' quel senso di, come dire, quelle vibes, per usare un termine un po' giovanile, di mistero e suspense, che si vanno a perdere in questa puntata, perché il modello è sempre lo stesso, entra nella casa, se c'è un imprevisto, devi risolvere l'imprevisto, eccetera, eccetera, quindi il contesto è sempre un pochettino quello e di conseguenza fai fatica anche a tenere la stessa attenzione aspettativa del pubblico. Ogni tanto ci mettono qualcosa, ogni tanto fanno qualche riferimento a cose particolari, a misteri, il figlio di Agatha, l'identità del ragazzino, Mephisto, stregonerie varie, ogni tanto fanno un po' questi riferimenti qua, ma sembra tutto quasi una lenta preparazione per qualcosa che non si sa se arriverà o meno, sembra tutto una lenta preparazione per qualcosa che non si sa se poi avremo effettivamente modo di godere pienamente o se non sia invece tutta una preparazione per qualcosa che poi verrà esplorato nei film, perché alla fine di base a questo è un po' la questione, cioè sono poche, sono poche le serie marbelliane che effettivamente poi hanno avuto qualcosa di concreto da dire, che non sono state semplicemente un lanciare personaggi che poi sono stati completamente e pienamente esplorati invece in ambito cinematografico. Ecco, in generale dopo tre puntate tutto sommato godibile e convincenti, questa puntata qua resta sì abbastanza godibile, ma forse un po' troppo lunga perché soprattutto la parte centrale nella casa sappiamo già grosso modo come entranno le cose, come si svilupperanno, manca un po' quella tensione, quel pathos che avevamo trovato. Se la prossima puntata si aprirà con loro lungo la strada e una casa che si apre davanti a loro e devono andarci per superare una prova, allora probabilmente cominciamo ad essere un po' in difficoltà, anche perché insomma si è arrivata ormai la quarta puntata, carne al fuoco, né è stata messa né è stata doverosamente necessariamente messa e quindi ecco sarebbe importante adesso fare qualcosa, fare qualcosa di nuovo. Al momento è una serie tutto sommato anche carina, anche simpatica, per carità si vede che tutti quanti sono impegnati, fanno un po' simpatia anche per simpatiche attrici, però veramente tanto fumo e poco arrosto, tanta apparenza e poca sostanza, tanta faciloneria, simpatia buttata lì davanti a te, esagerazione, penso anche solo alle smorfette dell'attrice e così e poca sostanza, cosa mi dice davvero questa serie? Cioè presa come serie a sé stante è carina ma inutile, presa come serie marvelliana comunque ti aspetti qualcosa di più, ti aspetti che questa serie ti dica qualcosa, ti dia un segnale, ti apra qualche strada, ti apra qualche sensazione nuova, ecco. Questo finora non è stato, ecco. In un anno in cui di Marvel noi abbiamo avuto veramente molto poco, abbiamo avuto veramente molto poco, perché giusto il nostro Death to the Wolverine, che per carità è anche abbastanza scollegato dal Marvel Cinematic Universe vero e proprio, ha potuto dirci qualcosa con un successo chiaramente clamoroso, ecco però per quel che riguarda la trama fondamentale del mondo marvelliano, questo potrebbe essere un modo per rimettere la palla al centro, ecco finora così non è stato. Altre cose particolari da dire io non ne ho, nel senso che è una puntata molto interlocutoria, non me ne è rivelato praticamente nulla di sostanziale, carina ma forse un po' troppo lunga e tutto sommato nemmeno eccessivamente godibile, staremo a vedere, staremo a vedere quali tipi di innovazioni, novità, rivelazioni ci potranno essere nelle prossime puntate. Io vi ringrazio per averci seguito, fatevi sapere nei commenti cosa ne pensate, se sono io, scemo, che non ho colto qualcosa che invece era abbastanza evidente, lasciate la canzone se vi è piaciuto, ma se non vi è piaciuto, ma lasciatecelo comunque, cosa vi costa? Cosa vi costa? Iscrivetevi al canale della Fairy Family Film perché non si sbaglia mai, occhi aperti, perché ci vediamo molto molto presto con altri video di recensione della Fairy Family Film. C'è un Joker nell'aria. Ciao a tutti. Ciao a tutti.